con Soluzione Clic oggi parliamo di un argomento molto sentito, un argomento sentito da tanti italiani e stiamo parlando della cremazione degli animali domestici. Lo facciamo con Stefano Biliardi, direttore di Croceverde Onoranze Funebri. Allora si possono cremare anche gli animali? Sì, sì assolutamente. Questo nuovo servizio che siamo andati a presentare in questi giorni nasce proprio da tantissime richieste che ci sono pervenute perché l'animale domestico fa parte della famiglia. Ci sono tanti tipi di cremazione e quindi noi volevamo fare, aggiungere a tanti servizi che facciamo già con Onoranze Funecoceverde anche questo servizio. L'abbiamo voluto perché volevamo dare un qualcosa anche in questo settore. L'abbiamo fatto con il Ponte dell'Arcobaleno perché abbiamo trovato una struttura meravigliosa, molto armonica, fatta proprio con amore e quindi abbiamo fatto questa collaborazione. Come funziona la cremazione degli animali domestici? Come primo approccio diciamo che la famiglia può chiamare da noi, noi la mettiamo immediatamente a contatto con il Ponte dell'Arcobaleno che possono portare loro l'animale presso di loro oppure loro vengono loro a prendere l'animale direttamente. Un servizio che viene svolto H24. Invece per quanto riguarda la cremazione ci sono due tipi di cremazione. Una è la cremazione collettiva e una è la cremazione singola perché la cremazione collettiva una volta che viene fatta la cremazione con altri animali le ceneri vanno sparse in settori lì. Quindi diciamo così si mischiano, uno non ha più solo il suo animale domestico come c'è l'altro. Esatto e infatti tante volte uno decide faccio la cremazione collettiva poi si ripensa e dice no 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 fatemi fare quella singola perché? Quella singola perché viene fatta la cremazione del tuo animale, diciamo dell'animale che fa parte della famiglia perché è importante questo e anche per me quindi è così per tutti. Io da quando sono nato ho sempre avuto il cane quindi non l'ho ancora abbandonato purtroppo tutte le volte si dice non lo facciamo più perché soffriamo ma invece alla fine è un compagno per tutta la vita e quindi cosa succede che una volta che viene finita la cremazione vengono fatti la raccolta delle ceneri singoli e poi dopo vengono messi nell'urna. Ecco chiedevo anche questo discorso è particolare perché poi ci sono prezzi diversi anche a seconda della cremazione insomma. Sì allora anche questo per massima trasparenza con il ponte arcobaleno uno può andare a visionare il sul sito c'è il listino prezzi perché il listino prezzi perché va in base al peso dell'animale ok quindi in base al peso dell'animale se la cremazione viene fatta collettiva se la cremazione viene fatta singola e quindi giusto non possiamo dire costa x perché poi dopo alla fine non è quello e non vorremmo creare di sapori con le persone è una cosa visibile sul sito che uno può vedere e già si può fare un'idea di quello che può costare la cremazione. E la differenza sta proprio tra i due tipi di cremazione anche per il costo ma perché poi uno non ha più le ceneri solo dei suoi animali. Esatto ci sono anche si aggiungono altri costi nel senso che la cremazione collettiva uno dopo sparge le ceneri nella cremazione singola uno le ceneri ci sono diversi urne diverse cose che poi dopo magari... Dopo le approfondiremo in un'altra puntata sicuramente. Esatto che uno le porta a casa le porta con sé se le porta al mare. Un'ultima cosa che non è ultima perché ne riparleremo ancora possiamo dire che le regole le normative chiamiamole così sono un po più leggere tra virgolette rispetto alla cremazione che c'è invece per quanto riguarda le persone. Sì quello quello che sto dicendo condivido diciamo che sugli animali è meno restrittiva che su quella degli umani c'è sempre una parte di burocrazia che deve essere svolta perché vengono viene fatta la denuncia di morte dell'animale viene viene fatta la denuncia c'è la chiusura del microchip che l'animale ha e quindi anche qua un piccolo un po di burocrazia esiste però siamo meno restrittivi perché le ceneri possono essere suddivise possono essere divise per due o tre familiari. Benissimo noi la ringraziamo e per soluzione clic è tutto l'appuntamento è per le prossime puntate naturalmente sempre con i nostri professionisti. Grazie a voi a presto a presto